C'è poco da dire. Rinaldo Belucci, sindaco di Taranto, dal punto di vista politico è proprio una faccia di bronzo. Davvero non ha pudore politico, non ha dignità politica. Oltre ad un'amministrazione fantasma che non si presenta in Consiglio Comunale, ma guardate cosa ha fatto. Ha fatto affiggere in tutta la città dei manifesti dei 6x3 con degli slogan che rappresentano una vera e propria presa per il culo nei confronti dei tarantini. Vi farò vedere alcuni di questi manifesti, incominciando dal più ridicolo, non perché il significato sia ridicolo, ma perché detto da Melucci e dall'amministrazione Melucci c'è da ridere, anzi da piangere. La città prima di tutto. Rinaldo Melucci dice che Taranto è in cima ai suoi pensieri, che presa per il culo. Caro Rinaldo Melucci, dovresti cambiare questo slogan. La poltrona prima di tutto è lo stipendio prima di tutto, ma non vale solo per te, perché guardate, il manifesto recca la scritta, l'amministrazione comunale dei tarantini e poi Rinaldo Melucci sindaco di Taranto. Quindi, innanzitutto, caro Melucci, tu non puoi parlare a nome dei tarantini perché questa è la tua amministrazione comunale. I tarantini non ti vogliono, non ti riconoscono come sindaco, sei stato eletto, certamente, legalmente, legittimamente, formalmente, ma non sei il sindaco dei tarantini, non alberghi, non sei nel cuore dei tarantini. Tu dal punto di vista politico, i cittadini hanno un'avversione profonda nei tuoi confronti, è enorme, non ti sopportano, non ti vogliono, altro che l'amministrazione comunale dei tarantini. I tarantini non vogliono la tua amministrazione e ti permetti di dire la città prima di tutto. Ma poi ci sono altri slogan, ve li sto facendo vedere uno per uno. La città è di chi la vive? Certo, dei lavoratori, del cittadino che paga le tasse, ma non certo la tua, perché tu la città di Taranto non la vivi affatto, non la giri, non vivi i problemi della gente, non stai a contatto tra la gente. E così, un'altra presa per il culo, sui giochi non si gioca, si riferisce ai giochi del Mediterraneo, sì, quei giochi del Mediterraneo che per causa tua, Rinaldo Melucci, della tua amministrazione, dei tuoi dispetti con il governo, con Ferrarese, hai comportato dei ritardi, hai prodotto dei ritardi enormi, hai giocato tu con i giochi, per i tuoi interessi politici, per le tue schizofrenie politiche, per le tue gelosie, per le tue incapacità. E ancora, un alto schiaffo che suona in faccia ai tarantini con lo slogan, una comunità ferita e una comunità coraggiosa. Certo, è una comunità coraggiosa quella che ti sopporta, davvero, è una città ferita dalla tua incapacità amministrativa, dai tuoi silenzi, dalle tue favole che hai raccontato per quanto riguarda la questione ambientale. Quanto ai costi di questi manifesti, ho saputo che Melucci ha dichiarato che i consiglieri di maggioranza si sarebbero autotassati. Va bene, ammesso che sia così, va bene, vi siete autotassati. Beh, certamente ricordate i cittadini questa data, quella del 31 gennaio, quando si è tenuto il Consiglio Comunale in modalità question time, i consiglieri di maggioranza sono entrati, è stato fatto l'appello nominale, hanno incassato il gettone di presenza e poi sono usciti. Un gettone di presenza vale circa 40 euro. Bene, evidentemente con questi soldi leciti, leciti, nulla da dire, però davvero dal punto di vista etico e squallida la cosa, due minuti per intascare 40 euro. E certamente anche questi 40 euro hanno contribuito a questa autotassazione dei consiglieri di maggioranza che avrebbero finanziato la realizzazione e la fissione di questi manifesti. Cittadini di Taranto, aprite gli occhi. Già che come campagna di comunicazione fatta ora da un sindaco che sta con un piede e mezzo nella fossa dal punto di vista politico, nel senso che rischia di cadere da un momento all'altro, e con una città che è ridotta a un porcile, a un letamaio, tu hai il coraggio di dire la città prima di tutto. Ma vai a prendere per il culo qualcun altro, non certo noi tarantini. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS